Vi è stato un periodo particolarmente prolifico della musica leggera nordamericana, va dagli anni 20 agli anni 40. Tra i compositori più famosi di questo periodo un nome, credo, si stacchi un pochino dagli altri, quello di Cole Porter. Cole Porter, oltre ad essere un musicista realmente ispirato, era un musicista preparato, musicalmente parlando, cioè un musicista che aveva fatto tutti gli studi di armonia e di composizione, ed era anche un pregevole autore di testi per le sue canzoni. Tutti coloro che amano il jazz o che amano suonare il jazz, suonano con piacere le musiche di Cole Porter, attraverso i tempi sempre di più, ed è per questo che Franco Cherry ha scelto per la sua prossima esecuzione un brano di questo compositore che si intitola I Love You. Franco Cherry è un elemento che ha bisogno, come tutti i jazzmen, di molta libertà per poter suonare e poter improvvisare. Ed io ho cercato con la mia orchestrazione di non invadere molto il suo campo, cioè con il peso di una grande orchestra di dargli abbastanza spazio per poter improvvisare e per poter realizzare le sue creazioni di jazz. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti